Grazie a tutti. Buon pomeriggio dall'Ippodromo Orcoveggio, convegno di giovedì 23 novembre. Prima corsa, cavalle soltanto femmine, tre anni. Elisabeth Matley, Egeri, Enjoy ZS, Electra Marche, Esedra Cube, Every Mail in prima fila, Energy Adri, SBNMTT, Speranza Orsi, Brezza ed Emozione Cappi in seconda. Macchina che stacca con la velocità iniziale di Esedra Cube che va subito a condurre nei confronti di Egeria, mentre cerca di sistemarsi in terza posizione Enjoy ZS. Vedremo se riuscirà nell'operazione. Sì, dopo 100 metri di gara. Numero 6, Every Mail, squalificato. Every Mail, la prima squalificata. Se ne vanno i 200 iniziali con al comando Esedra Cube che completa il primo parziale in 15,7. In seconda posizione si mantiene Egeria davanti a Enjoy ZS, rimasta all'esterno invece Electra Marche e c'è ora la puntata esterna dopo 400 metri da parte di Emozione Cappi. Emozione Cappi arriva a ridosso di Esedra Cub e la fianca, anche Electra Marche all'esterno fin dalle prime battute. Ora segue le mosse di Emozione Cappi. Se ne vanno intanto i primi 600 di gara. Situazione tattica che vede ora più pariglie anche Esbien MTT all'esterno, anticipato Esperanza Ors. Se ne va il giro iniziale in 1, 2 e 3. Cavalli sulla penultima piegata, sempre condotti da Esedra Cub, poi Egeria in seconda posizione. All'esterno si impegna Emozione Cappi, se ne va intanto il chilometro in 1, 17, 9, con il tentativo in terza ruota di Esbien MTT, seguito da Esperanza Ors. 500 all'arrivo, in allungo comunque Esedra Cub, quando siamo a 400 dal palo. In seconda posizione alla corda si mantiene Egeria, all'esterno Esbien MTT, non progredisce più Esperanza Ors. Alla corda in terza posizione c'è Injoy ZS, cavalli al completamento della piegata con Esedra Cub. Numero 7, Energy Adris, qualificato. Egeria in seconda posizione all'esterno Esbien MTT, all'interno si lancia invece Joy ZS, finale con Esedra Cub, che porta a caso una netta vittoria per il secondo posto. Sul palo è probabilmente Injoy ZS, che ha ragione, di Esbien MTT e Egeria che arrivano in linea, e quindi ci sarà probabilmente foto per il terzo posto, che è il primo, è netto, ovviamente per Esedra Cub, il secondo, ecco vediamo l'immagine, il numero 5 di Esedra Cub al primo, al secondo il numero 3 di Injoy ZS, Per il terzo, è una bella foto davvero fra i numeri 2 Egeria e 8 Esbien MTT. La vittoria comunque non sfugge a Esedra Cub in percorso di testa, Carmine Piscuoglio in sediolo per conto della società Francesco Alessandrini, della società agricola Fattoria.